Ragazzi, io ho finito ora e in questo momento è finalmente nata Matilde. È nata Matilde, sta bene, non so nulla, infatti devo salutarvi perché devo informarvi, ma non potevo non dirvelo perché siete stati veramente intanti a chiedermelo e grazie a tutti. Eccoci qua, siamo scesi ora dalle scale dell'ospedale, stiamo scendendo le scale dell'ospedale, siamo andate a trovare Matilde, purtroppo c'è solo un'ora a disposizione il pomeriggio. Lei ha un facottino di 2,7 kg, è lunga 48 cm, è piccolissima, è piccolissimissimissima, è sanissima, sta bene, grazie a tutti. Niente, noi in tutto ciò abbiamo sbagliato strada, comunque volevo ringraziarvi anche da parte della Neo Mamma e Neo Papà perché siete stati veramente intanti siete in tanti.